Avete capito qua con chi siamo seduti stasera a tavola? Non potete mai immaginare uno dei fondatori che ha fondato il fondamento fondamentale della canzone napoletana A miei tempi però, perché prima di lui ci sono state pure altre E la storia, lui signore e signori, il pilastro, la trava di collegamento Clemente Menzione Ciao, buonasera a tutti Buonasera, anche Nicola, Nicola è il mio manager abusivo Siamo a cena insieme, siamo al ristorante Giardini di Cesare Giardini di Cesare Adesso la patata di spagattino che ci ha proponato a Giardino di Cesare